Il branding da lì come ti è venuto in mente? Perché hai pensato di dar questo taglio? Quando ho visto il tipo di materiale che si poteva mettere in mostra di questa collezione ho pensato subito all'idea di una serialità, di una possibilità di interpretare da lì come un imprenditore che mette il suo marchio su tutto ciò che gli capita a tiro fondamentalmente Ma secondo te c'è stata una consapevolezza forte? Io credo proprio di sì, da alcune sue interviste, da alcune cose che si leggono, che possiamo tutti leggere nelle sue autobiografie lui era assolutamente consapevole del potere dei mezzi di comunicazione e li ha utilizzati a suo vantaggio e per mezzi di comunicazione, oltre a quelli ovviamente di massa che non erano, almeno si sono sviluppati un po' contemporaneamente alla vita cronologicamente parlando di Salvador Dalì mezzi di comunicazione dell'immagine possono essere considerati anche le stampe e tutto ciò che è un supporto diventa supporto di un'immagine Certo, ma quindi possiamo quasi dire che Dalì in qualche modo è stato un influencer ante litteram Ma sì, guarda C'era uno che avrebbe utilizzato i social a manetta oggi Assolutamente, sì sì, un po' la tesi di fondo è questa che la sua attualità il fatto che ancora oggi ne parliamo non è solo dovuta ovviamente al suo incredibile talento e al suo immaginario che ha espresso così bene ma è dovuta soprattutto al modo in cui lui ha utilizzato quelli che oggi sono i nostri social prima ovviamente che esistessero, che fossero anche solo concepiti e quindi in questo senso rimane attuale, è riuscito a creare una tale mitologia di se stesso da essere diventato eterno fondamentalmente, sempre attuale Cioè quindi proprio una costruzione consapevole come si fa oggi col brand, col personal branding La mostra è costruita su questa idea, sì Cioè quindi proprio una roba studiata nel tempo, che è andata avanti negli anni Sì sì, costruita per gradi, per passi Anche forse quasi ossessivamente costruita C'è un'ansia appunto di eternità Esatto, c'è un po' quella sensazione La dà un po' quella sensazione lui come personaggio Sì, questo accumulo anche di oggetti, di supporti di vario tipo Che corrono parallelamente alla produzione invece più classica, diciamo così Sembra quasi appunto più conosciuta chiaramente Di pezzi incredibili, pezzi unici, capolavori della storia dell'arte contemporanea Però ecco c'è tutta questa massa un po' sommersa Che però ha contribuito, è come se fosse la base su cui poi fioriscono questi capolavori E che però contribuiscono a renderli così famosi ancora oggi Perché di lui si parla non solo per le sue opere Forse più per i suoi baffi Sì, per la sua immagine, per la sua cosiddetta follia Poi anche lì la follia bisogna capire quanto era una costruzione Quanto era reale, quanto voleva essere una parte proprio dell'essere personaggio Dell'essere artista Perché poi diciamo che questa figura dell'artista folle è sempre piaciuta In realtà fa sempre più... Però la cosa curiosa è che sembrano quasi due lati della stessa medaglia Cioè lui dichiarava l'unica differenza tra lui in pazzo Che lui non era pazzo, per esempio Ma poi c'è anche un'altra frase, un'altra affermazione interessante Nel diario di un genio Lui a un certo punto dice che lo snobismo è il suo stile di vita E da una parte quindi lui costruisce quest'aura intorno a sé Attraverso anche questo modo di porsi così eccentrico Però tutto invece questo lavorio continuo di opera Produzione di immacchio Va in una direzione completamente opposta e quasi in contraddizione Con il ritrarsi dell'artista in una posizione preeminente rispetto alla massa Cioè è come se volesse un po' tenere i piedi in due scarpe Quindi sfruttare le possibilità dei mezzi di comunicazione Per crearsi un'immagine che però è un'immagine molto eccentrica Quindi è curiosa questa ambiguità Questa dicotomia insomma che c'è un po' nella sua figura Cioè la cosa interessante di questa mostra è che quindi ci sono tutta una serie di opere Di pezzi anche inusuali se vuoi Cioè abbiamo trovato anche delle cose forse mai viste in giro O comunque poco conosciute Molto poco conosciute senz'altro E' curioso perché appunto è una specie di esplosione Dello stile di Dalì su tutto Praticamente su ogni supporto come dicevo prima Questa dalinizzazione che lui persegue ossessivamente Tanto da appunto apporre il suo stile su non so piastrelle Che sono state prodotte per una piscina di un ministro di Francisco Franco Che poi non è stata mai realizzata per esempio Oppure il più classico, il primo forse dei mezzi di comunicazione E primo dei supporti della riproducibilità tecnica dell'immagine che è il libro Ecco ci sono diversi libri in mostra Che appunto contribuiscono a creare, a costruire questa mitologia E pezzi abbastanza particolari come il cofanetto di Vinili Che è stato pubblicato nell'85 Che riporta l'incisione di un'opera lirica Un'opera poema scritta da Dalì Con musiche di Vachevich che era un musicista d'avanguardia E su libretto di Manuel Vasquez Montalban Quindi una cosa molto particolare Che tra l'altro è intitolata Etter Dieu, quindi essere Dio E sostanzialmente ha come protagonista Dalì che interpreta Dio Quindi l'apoteosi della sua La dice tutta Questo è il pezzo centrale di tutta la mostra In realtà è il pezzo, è il culmine di tutta la mostra Perché è un po' insomma l'atto finale Fantastico, veramente comunque un percorso geniale Effettivamente quando si dice di lui il genio catalano Lui ha tutti gli effetti Ma che cosa... Secondo te oggi Che senso c'ha Continuare a fare mostre Di un artista che comunque tutto sommato L'abbiamo... è stato visto, stravisto, rivisto Ormai bene o male forse Tutti lo conoscono Quasi a 360 gradi Cioè che cosa c'è ancora da dire da lì? Beh guarda Io credo che Un po' come si diceva prima Leggerlo come un precursore degli influencer È forse motivo per continuare a guardarlo Perché forse ci dice qualcosa Dal passato però ci dice qualcosa del nostro presente Quindi è chiaro che bisogna un po' cambiare prospettiva Che cosa ti piace di più invece di tutte le opere che abbiamo portato qua? Qual è la tua cosa preferita? Allora E questa è una domanda difficile Perché in realtà ci ho pensato Mentre guardavo tutte le immagini Per scegliere, per distribuirle nel percorso Ho sempre... ho avuto grosse difficoltà a scegliere Cosa mi piaceva di più Ci ho pensato più volte Mi affascina moltissimo Ahimè L'unico pezzo unico In mostra Quindi contrariamente a tutta la logica della mostra Che è un piccolo quadrettino Con una farfalla Due farfalle Veramente Che poi hanno insomma Innescato anche una piccola parte Dell'allestimento Diciamo così Una piccola metamorfosi Che parte da una farfalla Un po' una metamorfosi al contrario Che poi si vede in mostra E questo piccolo quadretto Queste bandierine in forma di farfalle È molto molto godibile per l'occhio E quindi mi piace poi anche le cose piccole In generale mi piacciono molto Devo dire però che anche quelle piastrelline Della piscina per il ministro di Franco Sono molto belle Sono una chicca Una vera chicca Insomma ci piastrellerei qualcosa Anche volendo Non sarebbe male averle Ma la farfalla perché? Che cosa rappresenta per Dalì la farfalla? Beh la farfalla Non solo per Dalì È un simbolo potentissimo Di metamorfosi Di trasformazione E anche per Dalì Funziona in questa chiave Chiaramente Questa idea Di un essere Un po' anche sgradevole Il verme fondamentalmente Il baco Che poi non sempre è un baco Solo nel caso del baco da seta Però insomma di questo essere invertebrato Così molle Così come tante creature Dell'immaginario di Dalì Che però si Nutrendosi Quindi mangiando Si crea un involucro tale Per cui può trasformarsi In un essere etereo Meraviglioso Che si libera Che si stacca dalla terra E vola Ma è talmente bello Che dura pochissimo Cioè è un simbolo Molto carico di significato Della parabola umana Direi Della disperazione anche Della parabola umana Quindi unisce un po' La mollezza Questa idea Della mollezza Che affascina Che ossessiona Più che affascina Dalì L'idea del nutrimento Come fonte principale Di questa trasformazione Dalì aveva quest'altra Grande Chiamiamola anche in questo caso Ossessione direi Della commestibilità Cioè tutto ciò Che è commestibile Per lui era bello La bellezza È commestibile Sì no Effettivamente anch'io E quindi il fatto Che la trasformazione Di questo essere Avvenga tramite Il suo nutrimento Non poteva che scatenare Nella sua testa Delle fantasie Surrealiste Importanti Per tutto Il suo campionario Di simboli E in questo caso Ecco la farfalla Diventa Un po' Accompagna Un po' In una metamorfosi Invece al contrario Il percorso della mostra Quindi poi invece Nel percorso della mostra Che altro troviamo? Allora troviamo Moltissimi Allora troviamo Innanzitutto Delle Stampe Tirate Con varie tecniche Quindi ci sono Delle punte secche Ci sono delle litografie Ci sono le xilografie Della divina commedia Sono dei pezzi Veramente eccezionali E poi troviamo Una infinita serie Di piatti Bicchieri Bottiglie Quindi oggetti Diciamo d'uso Che sono stati Dalinizzati Quindi sono stati Hanno attraversato Questo percorso Di branding Da parte di Dalì No La cosa di cui Cerco sempre Di parlare Quando Quando mi trovo A fare mostre Del genere Dove ci sono Molte opere Grafiche E Cercare di capire Perché in realtà Direi soprattutto in Italia La grafica È ritenuta Non così importante Come la pittura O come la scultura Perché l'italiano In qualche modo C'è questo rapporto Così Io provo ad azzardare Un'ipotesi Noi viviamo Immersi In uno straordinario Patrimonio Storico Artistico Che fondamentalmente È fatto di Pezzi unici Perché Di questo Stiamo parlando Ne abbiamo O Nella nostra Terra O Dispersi per il mondo Ma che provengono Dall'Italia Veramente Un'infinità Siamo un po Abituati A identificare L'opera d'arte Veramente valida Solo in questi Pezzi unici Quindi È abbastanza normale Che Nel rapporto Invece Con il pezzo Non unico Ma Multiplo O comunque Seriale In un certo senso Abbiamo qualche difficoltà Nel percepirlo Come un'opera Ci dimentichiamo Però Che Cioè che alle spalle Invece c'è un lavoro E una tecnica impressionale Intanto che alle spalle C'è un lavoro incredibile Tra l'altro È sempre interessante Capire La tecnica Con cui Avvengono prodotte Certe stampe Per esempio Ad esempio È incredibile Come è stata Tirata È stata Elaborata La Divina Commedia L'esilografia Della Divina Commedia Che hanno richiesto Una cosa come Cinque anni di lavoro Non è da parte di Dalì Da parte Dell'intagliatore Che ha realizzato Le cento tavole Cento matrici Su legno Quindi intagliando Il legno Per poter stampare Con una tecnica Appunto Calcografica Le cento tavole Continuare a ragionare In questo modo È un po' Anacronistico Secondo il mio punto di vista Nel senso che A partire dalla metà Del novecento in poi Dagli anni cinquanta Più o meno Sempre prendendo Le etichette cronologiche Con molte pinze Gli artisti cominciano A muoversi In modo completamente diverso Cioè se pensiamo Ad esempio Il primo che mi viene in mente A Sol Liewit Lui scriveva le istruzioni Delle sue opere Perché qualcun altro Le realizzasse Proprio come principio Come metodo di lavoro Questo è solo un esempio Poi l'assorbimento Di materiali industriali Di tecniche assolutamente seriali Non possiamo più metterci Nell'arte contemporanea Si è andato proprio oltre Si Cioè si è percorsa Questa strada Della riproducibilità Molto spesso come valore E non come limite Si Della riproducibilità Non solo Ma anche spesso Del fatto che La stessa opera unica Non venga fatta direttamente Dalle mani dell'artista Cioè l'artista è quello Che ha l'idea Fa il progetto Forse ci fa qualche ritocco finale Ma L'abbiamo visto anche Che so Di recente Con artisti come Cattelan Le sculture Cioè sono cose Che sappiamo tutti Che fa qualcun altro Sì sì ma non siamo neanche Così interessati a sapere Che le fanno io Esatto Però oggi di questo Nessuno si scandalizza Lo accettiamo Da lì per esempio Facciamo più fatica Ad accettarlo Quando invece Avremo tutti gli strumenti Concettuali Oggi come oggi Per capire queste cose Ecco questa mostra Prova a dire anche questo Cioè prova a dire Adesso noi possiamo capire Queste cose Meglio perché ci siamo dentro Siamo calati in questa realtà Proviamo a proiettarle Anche sul passato A noi Tutto sommato Prossimo Sì che poi Se vuoi ci sono Delle contraddizioni Anche un po' Nel passato Perché per esempio Lo faceva Warhol Ed era abbastanza Scontato E ok Invece Lo faceva Dalì Picasso Miró Era un po' Più Visto così Vabbè Forse comunque Warhol ne ha fatto Un Un fatto di stile Come dire Cioè è partito Così Sì per quello È partito così Perché si è trovato Immerso in quella Perché purtroppo Con questi altri artisti Lo confrontiamo Poi probabilmente Sempre con la produzione A olio Sempre con quelli che sono I grandi capolavori Che tutti conoscono Esatto E quindi Tutto il resto Viene visto come qualcosa Più Di minore Sì Meno importante Comunque Poi del resto Il mercato Oggi Il mercato È un attore Il mercato collezionistico È un attore fondamentale Del sistema Dell'arte Direi che è Forse il più importante Attore E ovviamente Il pezzo unico Sul mercato Ha un valore Completamente diverso Perché è raro Quindi banalmente Per questo E questo si porta dietro Un giudizio Di valore Che non è più legato All'opera Di sé Ma alla sua Alla quantità Di denaro Che vale Sì 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 Perché si viene a perdere un po' Il c'è l'idea Del valore intrinseco Del valore iconografico Del pezzo Del pezzo E il pezzo vale Semplicemente perché costa tanto Ma potrebbe essere anche un valore Semplicemente storico Cioè le piastrelle Di cui parlavamo prima Raccontano una storia E questa storia è interessante È importante È importante quanto può esserlo La storia di qualcos'altro Certo E quindi ha un valore Anche solo per questo Pur essendo una cosa fatta industrialmente Prodotta in centomila esemplari Però Racconta qualcosa del suo tempo Esatto sì Forse tante volte Anche molto più Di un'opera Anche di più Di uno dei grandi capolavori Che conosciamo E Non ti capita mai Tutte le volte che fai una mostra Di dire Questa è l'ultima volta che la faccio Sempre Veramente era un po' Che pensavo E non farne più Dopo vabbè Ho incontrato te Purtroppo sulla mia strada Ma perché secondo te questa cosa? Cioè è così faticoso Organizzare una mostra È molto faticoso E allora È sicuramente un'avventura Ogni volta diversa Anche se ci sono Dei tratti comuni Tipo Arrivare all'ultimo secondo Sempre E quindi faticoso È molto bello Come Come percorso Soprattutto sul finale Perché si creano Delle relazioni Tra le persone che lavorano Che altrimenti Difficilmente Accadrebbero Non è stato così Però Personalmente ho un rapporto Con Il mondo Delle mostre Abbastanza controverso Di amore e odio Diciamo così Forse tutti quelli che le fanno Forse tutti quelli che le fanno Ce l'hanno Credo che sarei appagata E poi sono Molto contenta Molto contenta Perché quindi quale dovrebbe essere Secondo te il ruolo Dell'artista oggi Ma Innanzitutto il ruolo Dell'artista è molto cambiato Soprattutto rispetto Ad Ali Per esempio Di fondo è rimasta L'idea Corretta Credo Che l'artista sia Un'antenna sensibile Della società Non necessariamente Più sensibile Degli altri Ma che Abbia la possibilità Per il modo In cui lavora Di Attivare L'attenzione In un modo diverso E quindi Il suo ruolo È Tra le altre cose Anche quello Di raccontarci Qualcosa Del nostro tempo In diretta Che non è una cosa Così semplice Non è una cosa Così scontata Non tutti Sono bravi Allo stesso modo Ovviamente No Quindi insomma Il ruolo dell'artista Nella nostra società Di oggi Ed è quello che Secondo me Loro riescono a incarnare Alla perfezione È quello di essere Un Un facilitatore Un mediatore Di processi culturali Processi culturali Che oggi Sono Devono essere Necessariamente Processi collaborativi E in cui Appunto Loro Hanno Individuato Sono riusciti A creare Un metodo Sostanzialmente Per poter avviare Questi processi Però il fatto che Io sono un po' Sempre combattuto Su questa cosa Perché a volte Il fatto che L'artista Debba darci No Allora Non debba darci In realtà È quello che fa Spesso l'arte Contemporanea È fare Delle istantanee Di quello che è La società Di quello che sta Succedendo A volte Però mi sembra Che lo faccia In maniera Eccessivamente Documentaria Cioè quindi Che questa cosa Poi dopo In qualche modo Si appiattisca Su se stessa Mentre invece Grandi artisti Come Dalì Per esempio Sono stati Molto più visionari Cioè in qualche modo Se vuoi Ti indicavano Anche una strada Verso In avanti In dentro Comunque verso Un altrove No Comunque in un posto In cui la bellezza Ha un Un ruolo Ben preciso E forse Anche certi valori Comunque Rivestono Ok Invece Questo a volte Sembra che l'arte Contemporanea Non riesca a farlo Mi sembra un po' Che a volte Si arravoglia Su se stessa E sul nostro Stesso tempo Anziché Riuscire a guardare In avanti Indicarci la strada E secondo me La grande qualità Di Eliasson Di Sarasino Giusto per ricitare Gli stessi Che citavo prima È proprio questa Cioè loro Lavorano Consapevolmente Per disegnare Un altro futuro E lo fanno Con i loro strumenti In realtà Sono molto visionari Nonostante le cose Che fanno Siano Decisamente più Connesse con la realtà Rispetto a quello Che poteva essere Il modo di fare Di Dalì Per esempio Che a posteriori Possiamo definire Come visionari Certo sì Loro invece Consapevolmente Cercano di costruire In modo collaborativo Un altro futuro Un futuro possibile Sarasino Lavora Sulla sostenibilità Ambientale Sulla possibilità Di creare Addirittura Un'altra dimensione In cui vivere Che si Un altro tipo Di mobilità Lo fa inventando Queste enormi Capsule Trasparenti In cui Il movimento stesso Della persona Mette in moto Qualcosa Però è Assolutamente Visionario Se non lo si Prende Alla lettera Come dire Quindi Sono molto d'accordo Sul fatto che Sia Importante Cioè che il ruolo Dell'artista Possa essere quello Di indicarci Una via Che possa essere Altrove Rispetto a dove siamo Adesso E può esserlo Da un punto di vista Emotivo Può esserlo Da un punto di vista Espressivo Ma può esserlo Anche da un punto di vista Concreto Ecco Quello che io Ritengo Come una delle funzioni Dell'arte Oggi Più importanti È quello di essere Connessa con la società E quindi In un certo senso Cercare di guidarla Verso qualcosa Quindi questa mostra Più che fare un istante Questa mostra è connessa Con la società Questa mostra è Molto connessa Con la società Per come la società È adesso Cioè non dà una via Adesso Non voglio avere Questa nozione Assolutamente Però Però in un certo senso Ci fa guardare Alla nostra società Di oggi Cioè più che altro Al nostro rapporto Con l'immagine E con la nostra Con l'autocostruzione Di un'immagine Che passa ovviamente Ormai Attraverso i social Ci fa guardare A questa cosa Come a qualcosa Di non così nuovo Innanzitutto E qualcosa Che è stato Semplicemente Supportato Che è supportato Dalla possibilità Che i social Offrono Ma che fondamentalmente Si poteva fare Anche prima Con altri mezzi Quindi ci racconta Sì una parte Della nostra società Attuale Assolutamente E nello stesso tempo Ci racconta Di come Non viene dal nulla Tutto questo Esatto Che dici Sarò Vorrei andare a lavorare Ma non lo so A me piace Chiarare Però possiamo Anche andare a lavorare